Buongiorno a tutti, ci troviamo allo stadio comunale di Ortona per la gara, la prima di campionato che si doveva disputare sabato ma è stata posticipata ad oggi, giovedì, per la prima gara di campionato, categorie allievi, girone e chieti, campionato provinciale, da questo lato con la classica maglia giallo-verde e l'Ortona calcio, anzi si vede una panoramica che c'è anche i ragazzi della scuola calcio che stanno disputando gli allenamenti, l'esibito anche da questo lato e qua stanno i nostri ragazzi della Virtus Castelfrentano, di Mister Gabriele di Felice, si stanno riscaldando, il Mister guarda, i ragazzi già sanno a memoria la sequenza degli esercizi, il Mister solo osserva, stanno riscaldando, tra pochi minuti inizierà la gara, alle ore 18 è prevista.